Ciao, Carlo. Cosa è successo al vecchio Bob? È una lunga storia. Non dirmi che ti sei innamorato di nuovo. Non mi dire che alla fine te la sei scopata. Monterossi, lei è sempre il benvenuto. Grazie. Se lei è sempre così agitato, poi le donne lo sentono. Stia attento, Monterossi. Si sta cacciando in un guaio. Ieri notte hanno ammazzato mio padre come un cane. Non so chi sia stato e perché l'abbia fatto. Non ti mettere in cose più grandi di te. Non fare cazzate, Nadir. Ma che cazzo stiamo facendo qui, le giovani marmotte? Ma dai! Lassate una volta che saranno di fronte alla mare, grazie di Dio. Ci mettiamo un bel cartello con su scritto Killer in attesa. Non riesco a capire dove cazzo sta quella benedetta linea che separa la giustizia dalla vendetta. Il bene dal male, no? C'è una linea lì in mezzo. Sottile, ma c'è. Sopra Maria Porto Felice del cielo. Allora, che ne dice della trama adesso? Ho dimenticato qualcosa? Fermo! Sì, adesso non rilassiamoci però, eh. Abbiamo ancora il gran finale di stagione. Sopra Maria Porto Felice del cielo. Sopra Maria Porto Felice del cielo.